Ciao ragazzi sul mio canale, oggi sfoglio insieme a voi l'album 16 della Yves Rocher valido dal 4 al 27 dicembre 2020. Andiamo subito a vedere quali sono le novità di quest'album. Abbiamo la maschera botamica a 1 euro per l'acquisto di una maschera viso specifico da pagina 8 a pagina 9. Set detersione gel detergente più polvere esfoliante a 12,95 da pagina 5 a pagina 7. Poi una trussa scelta in regalo ogni 25 euro di prodotti da pagina 35. Set occhi ombretto lunga tenuta più matita a 12,95 da pagina 36 a 37. Andiamo a vedere le altre offerte. Qui troviamo subito questo set sebo vegetal per pelle mista e grassa, detergente purificante più polvere esfoliante viso a soli 12,95. A questo set possiamo aggiungere la spugna purificante 6,95. A fianco troviamo la polvere esfoliante viso a 9,95. C'è un altro set, questa volta idra vegeta per pelle normale e pelle mista. Abbiamo il gel detergente ultra freschezza, polvere esfoliante viso 12,95. Anche qui possiamo aggiungere la spugna, questa volta per tutti i tipi di pelle, a 6,95. A fianco troviamo un altro set crema detergente più esfoliante viso 13,95. Anche qui possiamo aggiungere una spugna per pelle sensibili a 6,95. Qui abbiamo per l'acquisto di una maschera viso specifico una maschera botamica a soli un euro. la maschera è di 30 ml. Un'ottima offerta. Qui troviamo tutta la linea sebo vegetal. Quindi maschera detergente, acqua micellare. Qui invece troviamo tutta la linea alla camomilla. Qui abbiamo i prodotti della Idra Vegetal. I miei clienti si trovano benissimo, l'acquistano sempre ogni volta che mi fanno un ordine. Qui troviamo acqua floreale lenitiva a 12,95. Contorno occhi sempre a 12,95. Lo struccante a 7,95. Ragazzi i prodotti della e i brochets sono ottimi. Tutti i prodotti naturali. Qui invece abbiamo la linea Anti-Age Global. Quindi questa è consigliabile per le persone con una pelle più matura. Questa invece è la linea ad azione antimacchia. Abbiamo il siero, abbiamo la maschera e il correttore antimacchia. Questa invece è la linea che io utilizzo, Lifting Vegetal. Utilizzo sia la crema da giorno, quella da notte, il trattamento anti borse, poi abbiamo il siero. Vi posso garantire che è un'ottima linea. Poi abbiamo questi altri prodotti, Anti-Rughe e Compatizza. Qui invece l'Antietà Detox. Questi invece sono prodotti per nutrizione a tutto tondo. Anche questi sono ottimi, i miei clienti quando acquistano questa linea sono molto soddisfatti. Mi hanno detto che anche questo qua è Barsamo Labbra, una nutrizione rimpolpante, è qualcosa di eccezionale. Qui troviamo le trousse che possiamo avere in regalo con l'acquisto di 25 euro di prodotti da pagina 36 a 55. Abbiamo tantissimi prodotti che possiamo prendere. Ci sono questi set con queste matite. Vedete anche qui matite a occhi, lene line, quindi tantissime cose possiamo prendere. Ci sono tantissimi ombretti, ombretti effetto matte, effetto scintillante, effetto perlato. Sono eccezionali questi ombretti, io li ho provati e mi sono trovata benissimo. Ci stanno tanti mascara da poter scegliere. Poi i rossetti che anche questi sono straordinari, mi è piaciuto tanto il profumo, la durata di questi rossetti. Ragazzi, se qualcuno vuole entrare in questa azienda mi può contattare tranquillamente qui sotto nei commenti e poi ci contatteremo in privato e vi dirò come fare per entrare in questa splendida azienda. Qua abbiamo gli smalti, tantissimi pennelli per il nostro make up e tanti profumi, vedete, sia femminili che maschili. Vedete? Quindi possiamo anche prenderli per fare un regalo, ecco, per Natale. Qua invece abbiamo la linea riparazione per capelli, quindi maschera, shampoo, balsamo, siero. Poi abbiamo la linea nutrizione, la linea per capelli colorati, questo invece per dare volume ai capelli. E poi c'è la linea purizza che vi ho mostrato in precedenti video che io continuo ad utilizzare, utilizzo sia la maschera, sepo assorbente, prima dello shampoo, lo shampoo purezza, l'aceto da risciacquo purezza e mi trovo benissimo. E utilizzo anche le fiale anticaduta. Qui abbiamo creme per le mani, creme per i piedi e latte corpo, siro per il seno, latte idratante e rassodante. Quindi abbiamo la linea completa per il corpo, quindi anticellulite, siro slenn per snellire la figura, e poi tutta la linea di prodotti almonoi. Barsamo labbra. Qui invece troviamo crema mani e latte corpo, con varie profumazioni, al cocco, a vaniglia, veramente tanti prodotti abbiamo. Quindi possiamo scegliere la profumazione che più ci piace. Veramente i brusci ci propone tantissime opportunità. qui troviamo un altro set a soli 9,95. Bellissimo! Ce ne sono altri sempre a 9,95, vedete? Quindi abbiamo una vasta scelta anche di set. C'è neppure un altro a fine album, sempre 9,95. Ragazzi, spero che questo album vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti i vostri amici. Noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video con tante novità, sempre i brusci. Mi raccomando, se qualcuno è interessato ad entrare in questa azienda, non esiti a contattarmi qui sotto nei commenti. Ciao ragazzi!